Dal primo dicembre terza dose di vaccino anche per chi ha dai 40 ai 60 anni salgono contagio e tasso di positività in vigore le nuove regole restrittive sulle manifestazioni. Alta tensione tra Polonia e Bielorussia per i migranti al confine tra i due stati, appello dei Vescovi Polacchi, queste persone hanno bisogno del nostro aiuto. Un gesto d'amore verso la madre affetta da sclerosi multipla spinge la sua sedia a rotelle durante tutta la maratona di Barcellona, un modo per richiamare l'attenzione su questa patologia che colpisce quasi 3 milioni di persone nel mondo. 20 e 30, una manciata di secondi, buonasera e benvenuti al TG2000. Dal primo dicembre chi ha tra i 40 e i 60 anni potrà fare la terza dose di vaccino. Schizzano in alto i contagi. Beatrice Bossi. Sono quasi 7.900 i nuovi casi, dice il bollettino di oggi, 60 le vittime con un tasso di positività schizzato all'1,6%. Picco di contagi nel nord-est delle proteste, in Veneto se ne sono registrati mille in un solo giorno. Circa 2 milioni e mezzo di persone invece hanno già ricevuto la terza iniezione e dal primo dicembre, ha annunciato oggi il Ministro della Salute, la platea sarà allargata ancora di più. Io voglio annunciare al Parlamento che facciamo un ulteriore passo in avanti e dal primo di dicembre nel nostro Paese saranno chiamati alla dose aggiuntiva, al richiamo, anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni. L'annuncio è arrivato durante un question time alla Camera, ma poco prima, nella cabina di regia, Roberto Speranza ha proposto al Governo di estendere l'obbligatorietà anche della terza dose per i sanitari e per i lavoratori delle case di riposo. Riteniamo che la terza dose sia un tassello essenziale della nostra strategia di contrasto al Covid. Intanto in Germania scatta l'allarme. Nelle ultime 24 ore si registrano quasi 40 mila nuovi casi e 236 vittime. Massimiliano Cocchi. 40 mila nuovi positivi e 236 morti. I numeri record delle ultime 24 ore spaventano la Germania e hanno spinto la cancelliera Angela Merkel a chiedere una riunione d'urgenza con i premier dei diversi lander tedeschi. Il virus si sta diffondendo in modo drastico, ha spiegato il portavoce del Governo, affermando che è necessaria quindi una risposta rapida ed unita. La Merkel ha sempre sostenuto la necessità di aumentare il ritmo delle vaccinazioni. Al momento solo il 66% dei tedeschi ha ricevuto la doppia dose, ma la cancelliera vorrebbe anche fissare un limite legato al numero dei ricoveri in ospedale, oltre il quale scatterebbero restrizioni aggiuntive. La quarta ondata sta colpendo in particolare la Sassonia, dove da martedì è in vigore una sorta di green pass, e la Baviera, dove il numero di ricoveri in terapia intensiva è salito a quota 609 e la soglia di massima allarme era fissata a 600. Christian Drosten, uno dei virologi più ascoltati dal Governo, ha spiegato che la situazione grave in attesa di aumentare il numero dei vaccinati, occorre agire con misure immediate che non escludono un nuovo lockdown, altrimenti la Germania nei prossimi mesi potrebbe contare altre 100.000 vittime per Covid. Sempre più tesa la situazione tra Bielorussia e Polonia, per le migliaia di migranti ammassati al confine, scambio di accuse tra Varsavia e Minsk, Marco Burini. Un'altra notte al gelo, stanchi, affamati, intirizziti, ancora vivi. Non tutti, qualcuno ci ha rimesso la pelle, ma quasi tutti ammaccati nel corpo e nell'anima. Eppure non cedono. Sono bloccati lì, nella terra di nessuno, tra la Bielorussia di Lukashenko, che li usa come armi improprie, e la Polonia di Moraviecki, e la Lituania di Simonite, che li tratta come un esercito nemico. Vengono dall'Iraq, dall'Afghanistan, paesi distrutti da guerre e fame, e sognano di rifarsi una vita, per sé e per i propri figli, in Europa, soprattutto in Germania. La cancelliera Merkel, che sei anni fa apri le porte a un milione di rifugiati siriani, prova a sbloccare la situazione telefonando a Putin. Il suo vassallo Lukashenko deve smetterla di strumentalizzare i migranti. Parlatene con lui, ribatte impassibile il presidente russo, che si gode lo spettacolo di un'Europa impaurita e confusa che si barrica per i migranti. A Varsavia, il presidente del Consiglio europeo, Michel, apre al finanziamento dei muri. La Commissione dice no, ma un'Europa che sui migranti faccia politica e non polizia, ancora non c'è. La politica con la bozza della legge di bilancio, che ridisegna il reddito di cittadinanza, perde il sussidio a chi rifiuta due proposte di lavoro congrue. Addio alla discussa figura dei navigator. Il servizio di Augusto Cantelli. Tra una cabina di regia e l'altra, la legge di bilancio continua ad essere modificata e ora conta 34 articoli in più rispetto a quella approvata lo scorso 28 ottobre. Si parte dal reddito di cittadinanza. Vengono cancellate le figure dei navigator, mentre l'offerta di lavoro per essere considerata congrua deve rientrare entro gli 80 chilometri. Nel caso di mancata presentazione, senza un giustificato motivo, si applica la decadenza del beneficio. Sulle pensioni verranno rivisti i requisiti per l'anticipo pensionistico con opzione donna. Si va verso il ritorno a 58 anni di età per le dipendenti e 59 per le autonome. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri torna invece il super bonus edilizio al 110% per evitare frodi. L'agenzia dell'entrata potrebbe fermare l'iter di cessione del credito. Confermato invece il tetto del reddito di 25 mila euro per accedere al bonus per villette e unifamiliari. Fa ripartire l'Italia dopo la pandemia ai comuni e ai sindaci l'impegno per la ripresa stando vicino ai cittadini. Di questo si è parlato a Parma nell'Assemblea nazionale del Lanci. Caterina Dall'Oglio. La rinascita dell'Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della stagione di sfide che attende l'Italia dopo il periodo buio della crisi pandemica. Dieci anni di politica e di austerità nei confronti dei comuni hanno completamente depauperato la macchina amministrativa e questo chiaramente rappresenta una zavorra terribile soprattutto in questa fase in cui noi abbiamo bisogno di competenza, di velocità e di risorse per poter utilizzare i grandi investimenti del PNRR. Nonostante l'ultima tornata di elezioni amministrative con degli elettori disinteressati ad eleggere i propri primi cittadini è ancora loro che si guarda. A Parma si sono ritrovati 2.500 fra sindaci e amministratori diversi colori politici ma uguali necessità da nord a sud. È chiaro che con l'attuale dotazione di risorse di personale che i comuni hanno è impossibile riuscire in cinque anni ad esempio a fare due linee di tram o le infrastrutture che il PNRR finanza nei principali comuni italiani. Sono risorse che oggettivamente sui quali i comuni hanno subito tantissimi tagli nel corso dello scorso decennio per gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica del nostro paese e semplificare in modo coraggioso e incisivo il sistema della burocrazia, delle regole e delle autorizzazioni. Cambiamo argomento, i sacerdoti in Italia sale l'età media, quasi 1 su 10 è straniero. Il servizio di Nicola Ferrante. Un parro con gli 4.000 abitanti un po' più rari ma anche per questo presenza preziosa. Cala il numero dei sacerdoti in Italia nel 1990, erano 38.000, nel 2020 se ne contano 31.793, il 16% in meno. In aumento i preti stranieri nel 90 erano 204, nel 2020 sono 2.631, su 25.000 parrocchi e parro ci sono 15.000. Cresce però la loro età, la media di 61 anni e 8 mesi, in calo i sacerdoti sotto i 30 anni. Nell'anno 2000, 1.708, nel 2020 599, meno 60%. I dati non devono allarmare, spiega Don Michele Gianola, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Vocazioni, ma vanno presi seriamente. Occorre ricordare, conclude il sottosegretario Cei, che le vocazioni vengono generate dalla Chiesa Madre, una capacità a volte dimenticata o trascurata. E' stata pubblicata la bozza finale della Coppa 26, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Glasgow. Il test ora dovrà essere esaminato dai governi per le loro osservazioni. Letizia Davoli. Limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi al 2100 è l'impegno a cui la Coppa 26 chiama i governi nella bozza finale del testo diffusa nella notte. Un obiettivo, si legge nel documento che dovrà passare al vaglio dei singoli paesi, che richiede rapide, profonde e sostenute riduzioni delle emissioni globali di gas serra, compreso ridurre le emissioni globali dell'anidride carbonica del 45% al 2030 rispetto al livello del 2010 e a zero net intorno alla metà del secolo. Ma la bozza di documento riafferma anche l'obiettivo a lungo termine di contenere l'aumento della temperatura globale media sotto ai 2 gradi e riconosce che l'impatto del cambiamento climatico sarà molto più basso con un aumento di temperatura di un grado e mezzo. Numeri fissati sulla base della miglior conoscenza scientifica disponibile che rappresentano obiettivi e che richiedono azioni significative ed efficaci da tutte le parti. Ma la Coppa 26 va oltre e invita tutti i paesi a ridurre anche l'emissione di gas serra che non siano anidride carbonica, accelerando l'eliminazione del carbone e dei sussidi ai combustibili fossili. Il documento sottolinea anche l'importanza critica delle soluzioni basate sulla natura e degli approcci basati sugli ecosistemi, compreso proteggere e ripristinare le foreste nel ridurre le emissioni e proteggere la biodiversità. Ma nella bozza anche il riconoscimento degli impegni accresciuti presi dai paesi sviluppati per il fondo di aiuti ai paesi meno sviluppati. Obiettivo è arrivare al più tardi nel 2023 al target dei 100 miliardi di dollari all'anno. Ed ora la storia di Ennio, l'anziano di 86 anni, tornato in possesso del suo appartamento alla periferia sud di Roma dopo che alcune donne rom gli avevano occupato la casa. Vito De Torre. Il signoregno ha 86 anni. Il 13 ottobre scorso la sua casa è stata occupata da un gruppo di donne rom. L'anziano si era assentato per qualche giorno per sottoporsi ad accertamenti medici. Da anni è gravemente cardiopatico. Poi la mattina sono venuto qui, ho messo la chiave nella seratura, niente. Ho capito subito che l'avevano cambiata. Dopo la denuncia fatta ai carabinieri e tre settimane di battaglie legali, le rom decidono di lasciare l'abitazione di proprietà del signor Ennio. Ma al rientro altre brutte sorprese. Sparito il materasso, gli armadi sono vuoti, tutto sottosopra e poi sporcizia ovunque, in cucina addirittura, escrementi e urina di cane sul pavimento. Non ci si può entrare dal cattivo odore. Gliel'hanno fatto come dispetto, lei pensa questo? Sì, hanno fatto proprio un vandalismo, insomma, no? Le donne che hanno occupato sono a piede libero. Al signor Ennio nessun risarcimento. A 86 anni dovrà sistemare tutto e tentare di dimenticare un incubo durato 22 giorni. Quando ci penso proprio fa una rabbia, una cosa incredibile, insomma. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Eric Roldan che ha corso la maratona di Barcellona spingendo la carrozzina della madre affetta da sclerosi multipla. Barbara Masulli ne ha parlato con il presidente del comitato paralimpico, Luca Pancalli. Sentiamo. Corro con lei perché così può sentirsi libera. Lo ha detto Eric Domingo Roldan dopo essere entrato nel Guinness dei Primati grazie al tempo segnato nella maratona di Barcellona spingendo la madre in carrozzina. Mamma Silvia da 17 anni combatte contro la sclerosi multipla. 2 milioni e 800 mila persone nel mondo come lei. Cosa le viene in mente guardando queste immagini? Innanzitutto la potenza e la prepotenza dello sport. Lo sport che non è soltanto competizione, non è soltanto agonismo ma è socialità e comunità. E poi è anche famiglia vedere l'immagine di un figlio che spinge per 42 chilometri e oltre la propria mamma ma non soltanto per rincorrere un risultato sportivo ma un risultato a mio modo di vedere molto più importante che è un risultato di solidarietà perché finalizzata a raccolta fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla secondo me rappresenta la sintesi di quello che per me è lo sport. È una dimensione sicuramente agonistica ma nello stesso tempo uno straordinario strumento politico con la P maiuscola per quello che può lasciare a un paese, a una comunità e a una società. E per oggi è tutto. Ora vi lascio alla preghiera del rosario in vista della giornata mondiale dei poveri di domenica prossima dalla chiesa di San Basilio a Roma. La preghiera verrà guidata da Monsignor Carlo Maria Redaelli, Presidente della Caritas. A tutti un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.